Anche oggi siamo al lavoro nel comitato operativo per fare in modo che i nostri connazionali che si trovano sulla nave Diamond Princess possano rientrare al più presto. Stiamo organizzando i dettagli operativi del volo, del luogo in cui saranno ospitati per il tempo necessario alla sorveglianza sanitaria. Prosegue il lavoro del comitato operativo e non registriamo difficoltà alcuna rispetto anche alla situazione in atto nel nostro paese.